Ben ritrovati con una nuova edizione dell'informazione sportiva di Molise TV. Apriamo parlando di Coppa Italia di eccellenza e promozione. In programma nella giornata di oggi due gari Campobasso 1919 Spinete e Santeliana Acli. È tutto pronto per il debutto della nuova gestione del Campobasso 1919. Questa sera alle 20.30 all'antistadio Acli e Rosso Blu guidati da Mister Farina scenderanno in campo per la prima di Coppa Italia contro lo Spinete. Prezzo del biglietto fissato a 5 euro. Intanto nel pomeriggio di ieri, dopo la seconda seduta di allenamento, sono arrivate le firme dei contratti per i nuovi lupi. Vitelli e Monti non sono ancora arruolabili per problemi di svincolamento. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di apertura. È il giorno del debutto. Questa sera il Campobasso 1919 scenderà in campo per la prima gara di Coppa Italia contro lo Spinete e lo farà all'antistadio Acli alle 20.30. Il dado è tratto. Ieri pomeriggio sono stati firmati i contratti dei calciatori e dell'allenatore Francesco Farina, un uomo che di eccellenza molisana ne sa qualcosa. Nella stagione 2004-2005 vinse il massimo torneo regionale proprio sulla panchina dei lupi. Tutto è andato a buon fine, ma Monti e Vitelli non sono ancora arruolabili per via di problemi di svincolamento dai loro ex club. Il tecnico campano, nella giornata di ieri, ha diretto le sue prime due sedute di allenamento. 21 uomini che hanno risposto agli ordini del mister e del preparatore atletico Brandoni, tra cui volti nuovi, erano quelli di Francesco Catenari, Gerardo Pignataro, Thomas Palumbo e dell'ex Agnone Patriarca. Tra qualche giorno è previsto il ritorno in rosso-blu anche di Albino Fazio, mentre sono in corso ancora trattative con Lazzarini. A poche ore dal debutto ufficiale del campo basso parte il Toto Formazione, Catenari tra i pali, Minadeo e Scampamorte centrali difensivi, Scudieri a destra e probabilmente Lander Palazzo a sinistra. Un posto è ancora vacante a centro campo, dove i favoriti sono Corradino, Di Lallo e Mauriello, Coppia d'attacco Palumbo e Uovine, vista l'assenza forzata di Vitelli. Minadeo e compagni stasera scenderanno in campo con una maglietta particolare fatta a disegnare dai propri sostenitori, sponsor speciale Noi Siamo il Campo Basso e codice IBAN, ben in evidenza per chi volesse sottoscrivere la propria quota. Fischio d'inizio di Campo Basso 1919 Spinete, ore 20 e 30, il tagliando di ingresso è fissato al prezzo di 5 euro. Esordio tra le Muramiche per la Santeliana di Mr. Mario Cordone, che nel pomeriggio ospita per la prima gara della Kermess Tricolore le Acli di Mr. Carmine Rienzo. La Santeliana è stata succube di un notevole ritardo nella costruzione della squadra allestita in pochi giorni e stasera avrà modo di testare l'organico già in una gara ufficiale. Dall'altro lato ci sono le Acli, matricola del campionato di promozione, che tra le proprie fila vede la presenza di molti giovani provenienti dal vivaio. Uno degli uomini di maggiore esperienza a disposizione di Rienzo sarà il classe 90 Lorenzo Viglione. E quella di oggi è la giornata di presentazione ufficiale a stampa e tifosi dell'Isernia Football Club targata 2013-2014. Gli appuntamenti sono spalmati nel corso della giornata, nel pomeriggio in programma una gara amichevole, mentre la sera vedrà tutto l'organico reso protagonista in una conferenza stampa. Sul campo dell'Ancellotta si prepara intanto l'atteso esordio di domenica tra le mura amiche contro il Sulmona, ma sentiamo i dettagli nel servizio. Giornata di presentazioni ufficiali per l'Isernia Football Club, che si mostrerà a stampa e tifosi a partire dalle 17 di oggi pomeriggio, quando andrà in scena una gara amichevole a l'Ancellotta. La cerimonia di presentazione continuerà poi in un hotel della città, dove si avrà una conferenza stampa aperta a professionisti ed appassionati di sport. Oltre alla presentazione della squadra, dello staff tecnico e dell'organico societario, la serata verrà impiegata per illustrare la nuova campagna abbonamenti. La preoccupazione più grossa riguarda però l'imminente esordio stagionale tra le mura amiche contro il Sulmona. Per la prima gara di campionato dovrebbe essere confermata la formazione scesa in campo domenica scorsa al Civitelle. Per i 90 minuti di Coppa, qualche differenza potrebbe trovarsi sulle fasce di inattacco. Non sono escluse altre sorprese dal momento che la società Pentra afferma di non aver chiuso definitivamente il mercato, in entrata così come in uscita. Si sta allenando con il gruppo il trequartista Massimiliano Caputo, il cui curriculum è di tutto riguardo. Sette presenze in due stagioni in serie B con la maglia del Brescia e un buon numero di stagioni in serie C. Un elemento di spessore che potrebbe garantire continuità al gruppo Bianco Celeste. Lavoro ad alti ritmi alla Civitelle in vista della prima gara di campionato per l'Olimpia agnonese che esordirà domenica tra le mura amiche contro la Vispesaro. Mister Corrado Urbano dopo l'esordio positivo in Coppa Italia contro l'Isernia, sconfitta per due reti a zero, sta ponendo particolare attenzione alla condizione fisica dei suoi per incominciare la stagione con il piede giusto. Oggi pomeriggio testa amichevole per il Granata contro la Vastese, formazione che milita nell'eccellenza abruzzese, con fischio d'inizio alle ore 16. Il tecnico alto molisano potrà effettuare prove tecniche per l'undici che verrà schierato domenica davanti ai propri tifosi contro i marchigiani. Il Termoli incomincerà alla grande la stagione 2013-2014, sabato al Cannarza arriverà alla Maceratese per un anticipo in diretta satellitare. Ascoltiamo il servizio. Il Termoli non si nasconde dietro un dito. Dall'anticipo di sabato contro la Maceratese, che darà il via ufficiale alla nuova stagione, vuole uscirne con i tre punti in tasca. Partire con il piede giusto è utile al morale della squadra, oltre che dare spunti su di che pasta si è fatti. Ma l'avversario che dopo domani arriverà al Cannarza per i 90 minuti trasmessi in diretta satellitare non è dei più semplici. Si tratta della Maceratese del molisano Davide Borrelli, squadra che in Serie D ha sempre avuto voce in capitolo. Il tecnico Sauro Trillini ha avuto modo di testare l'undici di scena sabato in un test in famiglia sul sintetico di Rotello. Indisponibili saranno i due nuovi acquisti, Iboio e Di Tommaso, entrambi squalificati, ed in forze anche la presenza di Calabrese, in questi giorni febbricitante. Nella cittadina adriatica sale l'attesa per il debutto della squadra, che dopo aver spiorato la promozione nel campionato professionistico, quest'anno vuole centrare il colpaccio e agguantare la Serie C. I sostenitori sono vicini ai loro beniamini e è riscontrata infatti una folta presenza di supporters anche durante gli allenamenti e le gare amichevoli. Gli allenamenti continuano e non bisogna far altro che aspettare le 15 di sabato, quando si scenderà in campo per i primi 90 minuti della stagione 2013-2014, con il Termoli impegnato nel debutto con la Maceratese. Il Boiano attende con ansia il ritorno in Serie D, la gara di debutto sarà domenica a Città Sant'Angelo in casa dell'Arena Tocuriangolana. Abbiamo intervistato il matesino Francesco Curto. Francesco Curto, praticamente hai riconfermato la tua presenza qui a Boiano in una categoria decisamente più accattivante per te che vuoi crescere. Sì, questa è una categoria sicuramente molto superiore a quella dell'anno scorso, quest'anno ci giocheremo questa carta interedìa, dimostreremo le nostre doti per poi l'anno prossimo cercare qualcosa di meglio. Quali differenze hai notato finora rispetto al campionato dello scorso anno, proprio a livello di preparazione sia fisica ma soprattutto mentale? Sì, qui è tutto diverso rispetto all'anno scorso perché preparazione è molto migliore, perché l'anno scorso facevamo poco, poi una settimana, poi finì là. Invece quest'anno qui doppia tutti i giorni, dal 29 luglio che sono qui, lavoriamo molto e il ministro ci tiene molto al lavoro. Cosa ti aspetti tu personalmente da questa esperienza in Serie D? Mi aspetto che faccia un campionato nel migliore dei modi, per mettere il mostro, anche perché sono 95 e sono under, quindi quest'anno è obbligatorio far giocare 95, sperando di fare un ottimo campionato in cui posso far vedere alla gente quanto valgo. E cambiamo argomento, l'atleta ricese Biagio Fanelli ha conquistato una medaglia d'argento ai mondiali americani di arti marziali, andati in scena a New York e nel New Jersey. Grande la soddisfazione dell'atleta molisano che ha rappresentato l'Italia negli Stati Uniti. Bene, era questa per oggi la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Molise TV. Grazie a tutti.